Rolex GMT Master 2 lunetta nera, l'eleganza intramontabile. La lunetta nera del GMT Master 2 di Rolex è un dettaglio di design che aggiunge un tocco di mistero e raffinatezza all'orologio. Questa scelta cromatica crea un contrasto affascinante con il quadrante e la cassa, contribuendo a creare un'estetica di classe e uno stile unico. Una delle sue caratteristiche più impressionanti è la funzione GMT, che consente di tenere traccia di due fusi orari contemporaneamente. Questo è particolarmente utile per i viaggiatori globali e per chi lavora in un contesto internazionale, poiché permette di sapere sempre l'ora in due luoghi diversi del mondo. La precisione di questo orologio è garantita da un movimento interno di alta qualità, frutto dell'eccezionale artigianato orologiaio sviluppato nel corso degli anni da Rolex. Un elemento notevole di questo orologio è la varietà di materiali e opzioni disponibili. È possibile trovare il GMT Master 2 con lunetta nera in tre diverse configurazioni, completamente in oro giallo, in acciaio e oro o in acciaio inossidabile. Questa versatilità consente di scegliere l'orologio che meglio si adatta alle preferenze personali e allo stile di vita. Inoltre, il Rolex GMT Master 2 con lunetta nera è disponibile in diverse versioni di colore. Una delle versioni più iconiche è il modello con quadrante verde e lancetta GMT dorata, che offre un accattivante contrasto con la lunetta nera. Altre opzioni includono il quadrante nero con lancetta GMT rossa e molte altre, ciascuna con un tocco di originalità e stile distintivo. La storia del GMT Master 2 ha inizio come uno strumento dedicato ai piloti, ma nel corso degli anni si è evoluto in un'icona di stile che supera i confini dell'aviazione. Indossare il Rolex GMT Master 2 con lunetta nera è una dichiarazione di gusto impeccabile e l'opportunità di abbracciare un'icona di classe senza tempo.